Vabbè Eccolo qua Ma che io Sa ci metto un po' a lavarmi le mani perché bisogna liberarsi da tutti quei batteri 22.000 batteri che si anninano in falangi, falangine e falangette sono terribili No no ce ne sono che sono resistenti e irresistibili Irresistibilmente irresistenti Ci sono batteri ovunque Guardi guardi che nell'arca di Noè quelli lì non sono entrati a due a copia Sono 15 milioni di germi che adesso vorrebbero distruggere la vita Ma io li uccido prima Vabbè comunque una pipì hai fatto no bella mia Non è che proprio hai fatto che sia un'operazione No 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 Esagerata no Devo ancora farla la pipì Sì me li lavo prima e dopo A volte sarebbe meglio anche durante Anzi visto che lei è andata prima di me Se fosse così cortesemente Può farvi vedere le sue analisi recenti Analisi di che? Non so sangue, plasma Per sicurezza Guardi io per onestà intellettuale le faccio vedere le mie No lascia stare bella mia l'unica cosa che ti salva oggi è che non ci stanno le finestre qua Perché se non ti faceva fare un volo bella mia Che poi all'ospedale ti facevano una check up e vedi quanti germi tenevi Vattene saurita Vattene va 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 Ma che cazzo mi doveva succedere a me l'occhio? Non volevo Vabbè diciamo che Faremo a meno delle analisi Potrebbe cortesamente aprire la porta No perché mai aprire le porte che hanno toccato tutte E mi agita No 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 calma Siete bene un corso Vieni 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 vai Grazie Vai vai Mi può? Posso chiudere anche se? Ecco Poi bussa quando devo aprire Vieni ma le cose che succedono nei giorni di oggi io non lo so Cos'è? Io non ce la faccio Io non ce la faccio Mamma mia No ma c'era tutta una fila di germi Una fila tutta una colonia Una colonia Una colonia Non lo sa dov'è Dov'è? Nella fuga delle piastrelle Tutti in fila Ma tu un glab li tieni le colonie Ma tu stai male? Tu devi andare a qualche parte a qualche mese Ohhhh Ohhhh Stefanone Ciao mamma mia Ciao spazzuora Come stai? Bene Mamma Posso sentire? Posso sentire? Le maniche in chiesa Non muoio il profumo il tuo profumo Eh sì è sempre il solito Te lo ricordi ancora Bello 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 Posso sentire? Le mani Devi tirare a farsi le maniche Mamma Andiamo a bere un caffè Andiamo a bere un caffè No Una cortesia Una cortesia prima di andare Ti volevo presentare una mia nuova amica Eh? Guardala Guardala Piacere Stefano Lei 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 Piacere Stefano Piacere Io sono Esagerata Senti ma che cosa gli faccio io alle donne Non lo so sei sempre il solito Dai andiamo va Piacere Stefano 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 Piacere Stefano